Carissime amici, l'ho già scritto in un post dal prossimo 4 maggio, l'unico momento in cui potremo essere in 15, quindi un mini assembramento, sarà in occasione di un funerale. Quindi ho pensato che dovremmo fingerci tutti morti per festeggiare il nostro compleanno, così almeno 15 invitati li possiamo avere, già ci sono state delle reazioni, c'è chi mi ha proposto che al posto delle candeline potremmo mettere dei lumini, quelli da morto, e poi c'è chi ha proposto anche che al posto del consueto tanti auguri si potrebbe intonare la marcia funebre, che poi la marcia funebre è questa. Quindi praticamente verrebbe Lo so, non è molto allegro, però del resto in queste occasioni per cercare di ottenere qualcosa si bara, si bara.